L'incidente diplomatico tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale sulle nomine del Comitato Regionale per le Comunicazioni sarà risolto martedì nella prossima seduta. Lo assicura, ma senza metterci la mano sul fuoco, il consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggero Mennea. La vicenda ha bloccato a lungo i lavori del Consiglio. La votazione si è tenuta a scrutinio segreto e ha visto eletti Felice Blasi, presidente uscente del Corecom con 26 preferenze, Lorena Saracino con 22, Marigea Cirillo con 17. Escluso l'andriese Franco Di Chio Fermantosi ha 16 preferenze, ma gli eletti sono tutti in quota centrosinistra e questo, aggiunto alla forzatura della rinomina di Blasi, caso che era escluso dal regolamento, ha provocato le ire del centrodestra e il blocco dei lavori del Parlamento regionale. Possiamo definirlo un pasticcio quello delle nomine Corecom? Sicuramente non è una buona prassi amministrativa quella che abbiamo dimostrato in Consiglio regionale. Probabilmente non ha funzionato, come dire, l'informazione tra i gruppi consigliari che erano ignari, alcuni erano ignari di un accordo che era stato fatto, per cui quando veniamo chiamati a fare una votazione libera è chiaro che ognuno poi sceglie in base alle proprie convinzioni. Il Movimento 5 Stelle ha denunciato lo stallo dei lavori con una conferenza stampa tenuta proprio nella sala del Consiglio martedì scorso. Il fatto che siamo incagliati su questo argomento da tre consigli hanno ragione, siamo incagliati, però loro non hanno fatto niente per aiutare a trovare la soluzione, perché non hanno partecipato a quella votazione, quindi è troppo comodo non partecipare al campionato e poi fare i critici a bordo campo. Insomma, li conosciamo, ripetono sempre lo stesso copione, ma noi stiamo cercando adesso di trovare una soluzione per uscire dall'impasso perché non possiamo fermarci su queste nomine. Noi abbiamo altro da fare, abbiamo da pensare ai problemi seri della Puglia, quindi supereremo questo ostacolo quanto prima. Come? La proposta che è stata fatta è quella di ampliare l'organo da tre a cinque per appunto accogliere le rappresentanze delle minoranze a parità di indennità, per cui non si spenderà un euro in più, ma anziché averne tre avremo cinque di componenti e quindi così avremo equilibrato anche dal punto di vista politico un organo che deve essere rappresentativo di tutto il Consiglio e non di una parte. Ecco, credo che questa sia la soluzione giusta e martedì in Consiglio molto probabilmente, salvo qualche colpo di scena, supereremo questo ostacolo e quindi smetteranno di parlare gli amici di 5 Stelle.